Ok, allora noi abbiamo lui che ha questo tipo di dispositivo che serve a oscillare in realtà, perché ti ricordi che l'alchimia è nell'oscillazione, cioè noi dobbiamo pensarci come parte dell'universo allineati. L'universo oscilla, noi quando siamo fermi, non siamo in almoio l'universo purtroppo, siamo fermi, ma l'universo invece oscilla e noi oscilliamo, quindi tu, pochissimo, l'oscillazione è minima, è anche facile per te stare lì. Si può anche fare da sola l'oscillazione, questo è l'attacchio al termosifone o in un punto fisso e l'oscillazione la puoi fare da sola. Si, si dà col piede. Non mi serve neanche più, vuoi anche andarti. Hai capito? Non mi sei simpatico, non mi sei traumatizzato, poverino. Questa, la potete registrare, questa archivoteca. Questa, la riprendi? Ah, sì. Allora, queste sono le maniglie che si mettono ad esempio nei piedi e una volta che è fissata, diciamo, in un punto... Valuto? Lei si è sancato, si può uscilla, basta una minima oscillazione, lei si è ad uscilla. Questi sono elastiche, capito? Oh no. Tuo scilli? Non serve neanche più per questo. Per fortuna, se no lo do a calma. Si, al gatto, si mangia pure te quello. Esiste, esiste anche un dispositivo. Abbiamo un piatto che si chiama Karma, ma potremmo vedere un programma. Ma è un bandito. Che è un bandito? Infatti il nome non gli esattisce Karma, proprio. No, no. Gli ho dato retto. Lo chiamiamo Karma? Lo chiamiamo Karma. Si, sai, è un bandito o sarà?